un saluto agli amici di mitico snake allora si vedete un piccolo cambio di postazione per il semplice fatto che mi sono allontanato nuovamente da napoli verso milano per il mio lavoro dopo aver aperto e chiuso questa parentesi ritorniamo a noi qualche giorno fa avevo pubblicato sul mio profilo instagram un sondaggio nelle mie storie e questo sondaggio parlava di un mio video e vi avevo chiesto se volevate un mio video dove raccoglievo tutti gli errori e tutto quello che accadeva sul set di ripresa devo dire che siete stati in tanti a dirmi di sì e io non posso far altro che accontentarvi con questo video beh sicuramente vi sarete qualche risatina su di quindi a dopo adesso non resta altro che prendere il mio scusate prendere il mio cacciavite un po' di un po' di un po' di un po' di un po' il treno passa al momento giusto amici ecco ovvero quella di attivare o disattivare l'utilizzo dell'app ovvero quella di attivare o disattivare lo blocco durante l'utilizzo dell'app vi spiego meglio se noi attiviamo se noi attiviamo la voce mantieni bloccata l'app durante l'utilizzo sempre per quanto riguarda le chat è stata aggiunta un'ulteriore impostazione ovvero eccomi qua amici di medico snake ecco allora sì è vero sicuramente su di me vi sarete fatti qualche risata e questa era solo una piccola parte di tutti quegli errori e di tutto quello che accadeva sul set di ripresa quindi sto mettendo da parte qualche altro piccolo sketch qualche altro clip dove faccio sbagli qualche altra cosa che accade sul set di ripresa e devo dire anche abbastanza divertente se ci penso mi viene da ridere anche a me volevo dirvi un'altra cosa dato che il mio lavoro mi ruberà un po' di tempo quindi in settimana non riuscirò a pubblicare i video quindi per qualche settimana i miei video li pubblicherò di domenica allora se questo video vi è piaciuto come al solito vi chiedo di mettere un bel pollicione su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate le notifiche fatemi sapere nei commenti qua in basso cosa ne pensate di questo video e condividete questo video perché aiuta molto il canale e se domenica prossima dato che vi avevo detto che per qualche settimana i miei video li pubblicherò di domenica non avete null'altro da fare ci vediamo qui alle 11 sul mio canale youtube ciao